È stata una giornata radiosa per l'Università del Molise. La visita del presidente Mattarella in occasione della inaugurazione del centro di ricerca per le aree interne e gli appennini è stata l'occasione per un attestato di stima e merito su quello che, come ha ricordato il capo dello Stato, pur essendo un Ateneo giovane, è già punto di riferimento per studenti, ricercatori e punto di incontro per le istituzioni. Accolto dalle autorità civili, politiche e religiose, dalla festa dei cittadini, Mattarella è giunto all'Ateneo molisano intorno alle ore 11 dove ha ascoltato gli interventi di saluto del rettore dell'Università del Molise Gian Maria Palmieri, del sindaco di Campobasso Antonio Battista e del presidente della regione molise Paolo Di Laura Frattura. Ad illustrare il progetto per le aree interne e gli appennini sono stati i professori Marco Marchetti, presidente del centro di ricerca e professore ordinario di pianificazione ecologica del territorio dell'Università del Molise e il professore Gianfranco Viesti, professore ordinario di economia applicata all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, entusiasta il rettore Palmieri per l'ottima riuscita dell'iniziativa. Abbiamo ancora tutti nelle nostre orecchie le parole del presidente Mattarella che hanno coronato una giornata veramente splendida per questo territorio e per questo Ateneo. Certamente le parole del presidente Mattarella ci incoraggiano ancora di più a portare avanti le attività di questo centro di ricerca e anche di altri centri di ricerca in cui ci siamo impegnati. Il tema delle aree interne deve essere riportato all'attenzione nazionale perché è un tema non solo molisano, ma il Molise rappresenta veramente un prototipo delle aree interne. È un tema che va rimesso al centro delle strategie politiche e amministrative del nostro paese. Nei discorsi dei politici un richiamo alla tutela dell'autonomia del Molise e al mantenimento della Corte d'Appello, soddisfatto in tal senso il presidente del Comitato per la tutela della Corte d'Appello, Enzo Di Giacomo. Noi come Comitato Unitario e le numerosissime associazioni, enti, ordini comuni che aderiscono al Comitato Unitario dall'Italia, dall'estero, ringraziamo innanzitutto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'altissimo onore che ha dato a questa terra, a tutta questa terra, a tutti i molisani per la sua autorevolissima visita. Il sindaco di Campobasso Antonio Battista del presidente della regione Paolo Di Raula Frattura oggi hanno parlato anche in rappresentanza del Comitato Unitario allorché hanno sottoposto la questione della giustizia di vicinanza e della tutela dei nostri uffici giudiziari, a cominciare da quello della Corte d'Appello, hanno sottoposto questo argomento appunto al presidente della Repubblica che si è mostrato molto attento allo stesso. Alla fine della tappa universitaria Mattarella si è recato al Museo Sannitico, accompagnato dagli applausi e dalla festa dei cittadini.